ben ritrovati di nuovo su review you vado a recensire velocissimamente questo set da due flacconi da 125 millilitri l'uno di benzina per zippo per accendini zippo per scaldamani ma anche per accendini comunque normali sono andato ad acquistare su amazon questa confezione da due perché era in offerta a 7 euro entrambi e l'ho acquistata per caricare questo zippo non originale arriva all'interno di una confezione protettiva link in descrizione di amazon se la trovate anche voi in offerta ancora meglio allora essenzialmente qua ci sono tutte le caratteristiche quindi una qualità di di questo liquido è sicuramente il fatto che non ha un odore forte e la fiamma comunque la combustione è pulita qua c'è il beccuccio per andare a tirare ma facilitare appunto l'inserimento della benzina al vostro accendino i vari le varie indicazioni di pericolo e devo dire che conviene nel senso magari rispetto al negozio fisico pagate un euro in più però avete la comodità che vi arriva a casa faccio subito la prova sono già andato a riempirlo per vedere come la combustione ecco è partito come vedete vale la pena vi lascio il link in descrizione di amazon se avete domande non esitate a formale